De Marchi, partita con la Lucchese, questa volta forse è davvero l'ultima chance, vi hai dato fallire? Sì, sono d'accordo. Domani è una grandissima opportunità per noi. Questo periodo, inutile stare qua e rimarcarlo, è negativo. Perché secondo te? Questo fa parte del calcio e non è facile sempre ottenere il risultato, quello che si spera. Però un'altra grande cosa che ha questo sport è che puoi sempre rimetterti sulla giusta strada e domani questa per noi sarà una grande opportunità per farlo. Michael De Marchi inizio anno era, virgolette, devastante. Puoi essere un po' in calo. Che cosa sta succedendo, Michael? Sì, 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 sono un po' in calo e sicuramente lo dicono i dati, i risultati. Quindi penso che sia una situazione un po' dovuta al collettivo più che all'individuale. Quindi penso che posso ripartire forte ripartendo forte con la squadra. Abbiamo fatto una grande settimana e domani vogliamo proprio entrare in campo con l'atteggiamento giusto e ritrovare e ritrovarsi quelli che eravamo, come dici tu. Ti chiedo un'ultima cosa, Michael, perché lunedì dopo la riunione che c'è stata con la società è stato pubblicamente detto che vi è stata chiesta più cattiveria agonistica. Manca, secondo te? Sicuro, sicuro. Questo è una parte del problema, se vogliamo chiamarlo così. E quindi posso dire che domani possiamo sbagliare tutto, ma non l'atteggiamento. Grazie. 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 Grazie.